Eccoci qui, Release Note 32, nuovo mese luglio in arrivo in Marvel Contest of Champions, andiamo a vedere cosa ci aspetta. Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Allora, eccoci qui con le note di rilascio, Release 32, nuovo mese in game. Vediamo un attimino. Ho il sospetto da quello che ho leggiucchiato, giustamente visto che è estate, visto che è luglio, che questo sarà un mese abbastanza scarichino, un mese con un evento molto blando, senza cose incredibili e mirabolanti, il che diciamo ci sta anche. Allora, due nuovi campioni Crash into the Battle Ram. Allora, abbiamo due nuovi campioni al solito aggiunti in game. In questo caso saranno America, Chavez e Hercules, ovvero il campione scelto dalla community. Quindi questi due saranno i campioni che aggiungeranno. Staremo a vedere. Non ho ancora visto nulla a riguardo, quindi sono abbastanza curioso. Avrei preferito Morbius, avrei preferito altri rispetto ad Hercules, ma vabbè, staremo a vedere. Assault on Olympus. Allora, Hercules ha bisogno di te per il suo assalto finale. Al solito colleziona gli ingressi e scegli train o recruit, quindi due tipologie. Sarà un po', penso, come l'evento di Strega Suprema e Pyramidix, dove devi scegliere un po' la tipo fazione. Sarà una roba del genere. Infatti dice che le quest train offriranno materiale di upgrade per i personaggi, quindi catalizzatore, eccetera. Mentre la parte recruit offrirà schegge e nuovi campioni. Quindi al solito la divisione dei premi per i tipi di eventi sono risorse da una parte e schegge dall'altra. Oh, Summoner Showdown. Qui ci sarà probabilmente una nuova sfida estiva, come quella che c'è stata l'anno scorso, che mi pare fosse Silver Surfer. Che è praticamente una sfida, uno scontro pensato per un torneo a cui noi di solito non partecipiamo mai, perché siamo italiani, non ci fanno partecipare. Però, in generale, la sfida, penso, lo scontro arriverà in generale in game, darà qualche premio. Poi non competeremo, credo noi, al solito, perché non è mai stato così, per il totale Summoner Showdown. Ma ci sarà molto probabilmente uno scontro da fare. Continua la Summer of Pain, quindi mancano altre quattro settimane, altre quattro quest, quattro scontri della Summer of Pain. In più, penso che quindi dal prossimo arriveranno anche quei famosi extra obiettivi individuali, super difficili, che andranno poi a incrementare ulteriormente i punti per far sì che si possa accedere alle fasce di ricompense più alte. Quindi staremo a vedere, visto che già questo misterio ha creato dei problemi, staremo a vedere un po' come sarà questo nuovo scontro, i prossimi nuovi quattro scontri, con gli obiettivi in più. Aggiornamenti ai campioni, sappiamo già che Ronin, Diablo e Alfiere verranno buffati, quindi ci sono già le abilità, poi magari farò un video in cui andiamo a vedere un po' come sono le abilità. Sinceramente, per quel poco che ho visto, Bishop mi sembra interessante, Alfiere mi sembra interessante, Diablo è un rework abbastanza potente, bisognerà capire quanto sarà impattante, e Ronin è più che altro un tune up, quindi staremo a vedere se riusciranno ad elevarlo, visto che già di base è un PG di tutto rispetto, ad elevarlo a top o semi top. Per quanto riguarda i bug fix and improvements, quindi solite correzioni a problemi e miglioramenti, le signature ability, l'abilità chiave dei campioni, la descrizione dell'abilità chiave dei campioni, saranno visibili anche prima che il campione sarà svegliato, cosa molto interessante, perché ho sempre trovato stupido il fatto che tu non possa neanche vedere qual è l'abilità che vai a sbloccare dopo, quindi sicuramente è una cosa ben accetta, fissato un problema con Jubilee che gli attacchi pesanti non avevano consistenza nell'andare a segno, Diablo il danno sarà totalmente energetico, anziché energetico e fisico, Hulk Immortale ha aggiornato la info page per specificare che per triggerare immortalità ci vuole il 15% di gamma, ma insomma qua ci sono un po' di robe che vi lascio leggere a voi se vi interessano o meno, dipende appunto se avete questi PG, non li avete, avete riscontrato questi problemi, non starò a farvi l'elencone, comunque sono i soliti bug o sui personaggi o su delle feature in game che andranno a sistemare. La cosa secondo me più importante a livello di quality of life in gioco è che hanno aggiunto questa cosa della possibilità di vedere l'abilità chiave anche se non abbiamo svegliato il PG, per il resto sono bene o male tutte cose, quasi tutte cose che riguardano i personaggi quindi o caratteristiche dei personaggi. Che dire, come vedete release note cortissima, pochissime cose, non c'è niente oltre all'evento mensile e quindi l'evento side che sarà questa cosa del train e del recruit, ci sarà solamente quindi lo summoner showdown come singolo scontro immagino niente di trascendentale, quindi avremo il solito evento con le difficoltà, cavalieri, incollezionabili e blablabla, l'evento assoltano l'Olympus con le due fazioni, il summoner showdown e la summer of pain va avanti ma c'è già stata, gli aggiornamenti campioni e i miglioramenti, quindi un mese di smonto, un mese estivo come è anche giusto che sia, quindi mi aspetto un evento che andrà avanti liscio, tranquillo, senza troppi problemi, al solito scegliete quello che preferite tra le risorse o le schegge, magari si potrà fare come le altre volte, magari una settimana sì e una no, quindi fare due settimane in un modo e due settimane nell'altro, staremo a vedere come saranno questi buff ai campioni e come saranno soprattutto questi due nuovi campioni American Chavez e Hercules che entreranno in gioco, niente c'è veramente poco altro da dire, comunque ci tenevo a farvi il solito punto prima dell'uscita dell'evento in modo da darvi una panoramica generale, su quello che succederà in game il prossimo mese. Bene ragazzi, grazie mille di essere stati qui con me in questo video informativo sulla release note per darvi un'idea di quello che ci aspetta in game per il prossimo mese, al solito se non siete iscritti iscrivetevi al canale e campanella per rimanere sempre aggiornati sulle notifiche, condividete con amici, parenti, cani e gatti e cinci là e un bel like se il video vi è piaciuto mi aiuta sempre. Ci vediamo qui sul canale al solito, una buona giornata a tutti, ciao! Grazie a tutti!